La Paganese si presenterà al partire da Lombardi, priva di Murollo Squalificato e degli infortunati Volpicelli e Cretella, ragion per cui il mister Grassorone punterà ancora una volta sul 3-5-2, visto anche contro il Potenza, con Baiocco tra i pali, una linea difensiva che vede i tre centrali, Bianchi, Braccetto di destra, Schiavi al centro e probabilmente Scannagatta a sinistra, anche se c'è un ballottaggio in questo senso che ho sbampato. I due quinti saranno quasi certamente Zanini a destra e Manarelli a sinistra, anche se potrebbe esserci un avvicendamento con Viti, che aveva esordito anche a Campobasso nel secondo tempo, giocando proprio come quinto a sinistra e disputando sicuramente una buona ripresa al nuovo Romagnoli. Al centro campo dovrebbero essere riconfermati Tissone, naturalmente come play, Zito, autore di una partita sontuosa con il rosso-blu e Marco Firenze come interno destro. Davanti c'è un dubbio legato a Gigi Cassaldo, che è uscito proprio nel corso della partita di mercoledì per un risentimento muscolare al polpaccio, quindi è quasi scontata la riconferma di guadagni. Al suo fianco c'è un ballottaggio tra Piovaccari e Giannone. Spesso Grassadone ha preferito utilizzare Giannone dal primo minuto, giocandosi Piovaccari come carta di riserva, un giocatore in grado anche di spaccare le partite, come abbiamo visto anche nel corso di questo campionato. Quindi la Pagesi si presenterà sicuramente forte di questa vittoria, col potenza che ne ha rilanciato anche un po' le ambizioni, una vittoria sicuramente convincente, anche dal punto di vista proprio della prestazione, non qualitativamente bellissima, ma sicuramente una gara di grandissimo ardore, di grandissima personalità, che ha interrotto, si spera, questa fase di mini-crisi, nella quale gli azzurostellati erano entrati con le tre sconfitte consecutive tra Campobasso, Catanzaro e domenica scorsa Monterosi. Quindi il derby con Lavellino viene appuntino proprio per misurare anche un po' quelle che sono le belle età della Paganese. Grazie.